mp play videopillole sulla legge salvini a cura di melting pot europa in collaborazione con lasciateci entrare telefono sos hai avuto problemi in seguito alla legge salvini sei vittima di discriminazione raziale non sai come rinnovare o convertire la tua protezione umanitaria la questura ti blocca il rilascio del permesso il centro di accoglienza dove sei ospite ti sta mettendo alla porta vuoi fare richiesta di asilo o ripresentare una nuova domanda stanno trattenendo un tuo amico in un centro di detenzione il comune dove vivi ti nega la residenza o l'accesso ai servizi temi che il medico di base o dell'ospedale non voglia visitarti contattaci o scrivici su whatsapp telefono sos o o o o o o o o o Grazie a tutti.